Un saluto da Alex Guarini e bentornati al consueto appuntamento con le tendenze a medio-lungo termine. Oggi ci occuperemo del periodo riferito alla metà di aprile per il quale ci sono buone notizie. Infatti l'alta pressione delle azzorre si rinforzerà ulteriormente sul Mediterraneo e centro-occidentale avvolgendo anche gran parte d'Italia. Notate le perturbazioni che continueranno a scorrere soltanto a latitudini settentrionali. Andiamo quindi a vedere il dettaglio riferito alla nostra penisola che vedrà appunto una fase all'insena della stabilità e il bel tempo su gran parte d'Italia salvo delle blande infiltrazioni fresche sui versanti adriatici e quindi qualche addensamento nuvoloso ad evoluzione diurna in prossimità della dorsala peninica ma senza conseguenze. Buone notizie anche sul fronte delle temperature che saranno più umidi soprattutto al centro-nord con massime fino a 24 gradi sulle pianure interne mentre lungo i litorali non si andrà oltre i 16-17 gradi. Qualche grado in meno lo ritroveremo al sud con massime che usciranno tra 16 e 21 per via di quelle correnti più fresche di cui vi parlavo poc'anzi in discesa dai Balcani. Per il momento è tutto, vi aspetto come sempre sul nostro sito trebimeteo.com oppure scaricate la nostra app gratuita.